Un vero e proprio arsenale, riconducibile al gruppo criminale capeggiato dal narcotrafficante Raffaele Imperiale, arrestato un anno fa e stato scoperto da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, che hanno sequestrato 53 armi e migliaia di munizioni, eseguendo un decreto di perquisizione emesso dalla DDA di Napoli. In un'abitazione a Giuliano in Campania, il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e la squadra mobile di Napoli hanno individuato un vano, nascosto sotto la pavimentazione del garage, appositamente predisposto per la custodia delle armi. Nel nascondiglio, dove le forze dell'ordine hanno avuto accesso anche grazie ai vigili del fuoco, sono state trovate 38 armi a canna corta e 15 a canna lunga. Tra queste ultime, alcune dalla particolare capacità offensiva, come tre Kalashnikov, tre carabine di precisione con sistema ottico di puntamento, un fucile a pompa. A completare l'arsenale, 30 caricatori, due silenziatori, una bomba a mano e oltre 5.000 munizioni di vario calibro. In più, 5 giubbotti antiproiettile, 4 paline segnaletiche e 4 pettorine riportanti i loghi delle forze dell'ordine. Tutte le armi sequestrate saranno sottoposte ad analisi di tipo balistico per verificarne l'utilizzo.